Ciao a tutti da Freddy Verratti da Musicology e oggi vi propongo un brano tratto dal disco Five di Greg O. È un brano palesemente ispirato a Bach ed è pieno di parti importanti e salienti a livello tecnico. Farò dei video più avanti dove farò vedere alcune parti che reputo particolarmente importanti di questo brano. Buon ascolto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!